Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con iBriscola, un'applicazione come penso sia facilmente intuibile, dedicata appunto a questo gioco noto con il termine di briscola. Entriamo direttamente nelle impostazioni, gli diamo un attimo un'occhiata veloce, abbiamo gli sfondi selezionabili, ce ne sono veramente tanti, guardate, vediamo di farvi una passata così possiate capire dove potete in sostanza andare a giocare, potete eventualmente scegliere di mostrare i punti, abbiamo le carte, abbiamo le trevigiane, le napoletane, le siciliane, le trentine, vedete basta andare a selezionare la carta con la quale vogliamo giocare, potete avere i suoni, potete lasciare attivo il suono presente di default e potete personalizzare anche in questo caso, è piacevole quindi potete anche lasciarlo attivo, vi fa riassunto delle regole, cosa comode, avete una guida, le statistiche, vi permette poi anche un'eventuale implementazione del bluetooth o del wireless oppure sfruttare un eventuale dispositivo. possiamo andare online a fare nuova partita oppure torna al gioco, vediamo di fare una rapida demo così che possiamo appunto andare ok? 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 ok Grazie. Grazie. Alla fine vi fa il conto automatico dei punti, in questo caso siamo 61 a 59. Procediamo oltre, eseguiamo un'altra partita. Grazie. 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 Siamo 64 a 56, come notate quindi l'aggiornamento avviene in tempi decisamente rapidi, in questo caso ovviamente il set di due partite è stato perso. Come vedete quindi è facilmente gestibile, ovviamente abbiamo eseguito un paio di partite così appunto per farvi una rapida dimostrazione. Detto questo il programma appunto funziona bene, non presenta crash improvvisi, quindi è stabile e permette ovviamente un buon divertimento a chi piace giocare a brisco. Detto questo è tutto, la demo termina così, io vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è veramente tutto, grazie per l'attenzione, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragazzino. Ragazzino.